gentili telespettatori buona giornata beh che scansi abbia detto un sacco di frottole e che alla fine era lui che telefonava all'asle allora io sono pronto quando volete vengo non vi ha parlato della mia situazione il medico e poi gli aveva detto il direttore no guardi non è la priorità poi c'è da capire chi ha vaccinato scansi con quale dose ma la magistratura sta indagando ma adesso arriva l'asterisco che incastra il giornalistone scansi il piano vaccinale è chiaro i care giver ve lo leggo così come sta scritto vaccinati solo se assistono i disabili quindi non basta avere dei genitori vulnerabili per ottenere la dose tu devi essere il loro badante 24 ore al giorno in maniera costante capite il badante dei genitori maniera costante quindi l'asterisco l'asterisco piccolo piccolo si trova nelle raccomandazioni ad interim sui gruppi target delle vaccinazioni anti covid si tratta del documento con il cui il ministero della salute ha aggiornato le priorità sulle categorie da vaccinare dopo sanitari rsa e ottantenni spazio alle elevate fragilità e ai settantenni cosa c'entra tutto questo con andrea scansi semplice quell'asterisco alle tabelle 3 e 4 demolisce definitivamente se ancora ce n'era bisogno la favola del giornalista badante dei genitori vulnerabili anche fosse davvero la persona che assiste diligentemente gli avi infatti scansi non avrebbe comunque diritto a una dose perché non convive con babbo e mamma tu devi essere il badante 24 ore per essere il badante 24 ore dei tuoi genitori devi vivere in quella casa perché sei praticamente al loro servizio giorno e notte ma lui non vive con i genitori lui non è il badante dei genitori e così lui il 20 di marzo annunciava in facebook come se fosse no di essersi fatto il via iniettare il vaccino astrazeneca al centro affari di arezzo beato lui la gente si chiede come diavolo ha fatto un 46enne cronista a trovare una dose beh lui lo spiega a fine giornata quando c'è il rischio di cestinare il vaccino si contattano quelle persone che hanno dato la loro disponibilità a essere vaccinate laddove però facente parte di determinate categorie nel suo caso il badante dei familiari in quanto figlio unico di genitori facente parte delle categorie dei fragili così convinto di aver fatto del bene al paese cioè non ha fatto sprecare una dose e lui è stato così bravo e dice gli italiani dovrebbero ringraziarmi invece la realtà è un'altra gli italiani non lo devono ringraziare lui ha saltato la fila con un sacco di bugie ma lui dice ma io ero solo un panchinaro anche se la lista era solo verbale una lista verbale non c'era una lista era tutto a mente del medico no insomma tu lo dicevi al tuo medico di base che se ti riputava idoneo segnalava il tuo nome responsabile del piano vaccinale e così mentre gli ottantenni devono ancora finire il giro la toscana procede al rallentatore e i settantenni non hanno visto neppure l'ombra di una dose lui se ne va nella clinica detox col siero in corpo che fortuna ma perché il medico di base l'avrebbe reputato idoneo essendo figlio unico ed essendo ritenuto dall'asle un badante dei familiari e avendo due genitori nella categoria fragili e insomma lasciamo perdere il fatto che dovrebbe lui dice che dovrebbe essere ringraziato da larga parte degli italiani insomma siamo nella serie io ce l'ho fatta e loro no io sono e tu no io posso e tu no insomma poi c'è stato il programma di giletti che ha invitato il responsabile di quella struttura che ha detto non so chi gli ha dato il mio numero ma mi telefonava dicendo me non so se il medico le ha parlato di me della mia situazione ma quale situazione della mia situazione io sono pronto e quando lei dice ecco insomma così quello che dice il direttore del usl evaristo giglio gli è stato segnalato scansi come possibile panchinaro dal medico di base giustificando il diritto con le patologie dei genitori però l'usl ne ha preso atto e senza verificare oltre l'ha iscritto a piedi lista bene magari la forzatura l'ha fatta il medico curante magari l'usl ha sbagliato qualcosa non lo sappiamo fatto sta che scansi non avrebbe dovuto essere vaccinato assolutamente poi c'è chi ha cercato di difenderlo come la berlinguer di carta bianca come travaglio il suo datore di lavoro come giornalista però intanto momentaneamente è stato allontanato sia da carta bianca sulla rai sulla sette sembrerebbe che sia stato allontanato anche dal programma otto e mezzo di lilly gruber perché lui è era è era chi lo sa se è o era un opinionista un opinionista a pagamento cioè gli arrivava la parcella per le sue ospitate quindi scansi poteva iscriversi alla panchina senza rientrare nella categoria di convivente o badante no lo spiega semplicemente una nota dell'usl toscana sud est consegnata al riformista un giornale e anche il portale della regione per iscriversi è necessario entrare sul portale di prenotazione nella categoria di appartenenza se non sei convivente di un vulnerabile di un disabile non puoi farlo quindi per essere considerato quel care giver ve lo dico così come scritto no chiamiamolo in italianizzato perché è una parola inglese devi essere convivente se tu dici io accudisco un disabile o i genitori anziani devi essere prima di tutto un convivente e poi deve essere verificato che realmente quelle persone siano vulnerabili adesso si dice così vulnerabili naturalmente lui perché non si è iscritto in questo portale perché non era né convivente non era convivente prima di tutto basta solo quello quindi lui di fatto non aveva le caratteristiche ci ha fatto proprio una figuraccia lui pensava di far di far su tutti dicendo guarda dovete ringraziarmi ho preso l'ultima dose la stavano per buttare l'ho presa al volo no no non buttarla non buttarla iniettamela vabbè insomma io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata siamo anche in facebook nel canale nella pagina tele italia nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete nella community trovate anche tanti sondaggi quali poter partecipare e commentare bene nel c'è anche la possibilità di fare gli abbonamenti al canale ma sono una cosa in più grazie a tutti quanti e se volete tra una ventina di minuti ci sarà un altro libro è un altro libro un altro video disponibile arrivederci a tutti